Devo dire che abbiamo avuto un grande contributo dal Ministero della Giustizia che ha messo a disposizione i suoi tecnici e dall'Arma dei Carabinieri che ha messo a disposizione altri tecnici altamente specializzati in un contesto in cui è percepibile la cooperazione fra istituzioni che è una cosa fondamentale in un momento come questo in cui la vita pubblica del Paese talvolta sembra frammentarsi.